Tesla è il genio che ha elettrizzato il mondo e che ha sognato il raggio della morte, un'ipotetica arma segreta di cui si vociferava tra gli anni 20 e 30. Ma parlando di un genio, il video è rivolto ad altri aspiranti geni. Per questo motivo, per leggere il contenuto del video fissate le parole che compaiono nella parte centrale dello schermo. In questo modo, proverete una delle tecniche di lettura più veloci ed efficienti che esistano. Buon proseguimento! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! La tua lettura è stata di 300 parole al minuto, una velocità superiore di circa il 25% da quella raggiunta da chi ha rapido nella lettura. Ciò grazie alla tecnologia di Spritz, che porta le parole ai tuoi occhi anziché far cercare ai tuoi occhi le parole dentro un testo. Inoltre, con poche sessioni di allenamento con questa tecnologia puoi raggiungere velocità di lettura molto superiori, fino a 700 parole al minuto. grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!